Sembrerebbe che anche il buon Morgan salirà sul palco dell'Ariston in questo festival di Sanremo 2019. In particolare Morgan, l'ex leader del Blu Vertigo, canterà, da come si legge nelle web, con Achille Lauro. Ci sarà dunque un duetto con Achille Lauro con la canzone Rose Royce. Morgan avrebbe provato più volte a partecipare al festival e avrebbe dichiarato disegnare di ricoprire la carica di direttore artistico. La sua storia però con Sanremo sarebbe piuttosto controversa, ma non entrò nel mezzo. Faccio sapere però che, con ogni probabilità, anche Morgan salirà sul palco dell'Ariston di questo festival di Sanremo 2019. Canterà con Achille Lauro la canzone Rose Royce. Grazie per l'ascolto, il video termina qua, iscrivetevi se vi va, commentate e al prossimo video da Narratore Italiano.